Chi è Heidi Baci del Grande Fratello? Heidi Baci, la giovane concorrente albanese del Grande Fratello 2023, è diventata un volto noto al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al celebre reality show. Nata a Vasto il 19 agosto 1997, ma cresciuta a Pescara. Heidi ha una storia familiare significativa, con i genitori che sono arrivati in Italia con poche risorse, ma che con impegno e sacrificio sono riusciti a costruire una vita stabile, con il padre che ha raggiunto il successo come imprenditore edile. Prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello, Heidi ha intrapreso diverse avventure professionali. Ha avuto una piccola parte nel docufilm Uno di noi e ha lavorato come modella, ma il suo principale impegno lavorativo è stato nel settore nautico, come commerciante e imprenditrice. In questo ambito, Heidi ha affrontato le sfide dell'imprenditoria femminile, una tematica che ha poi portato con sé nel reality, condividendo le sue riflessioni e le sue esperienze con il pubblico italiano. La sua esperienza nel Grande Fratello 2023 è stata un viaggio di scoperta e di condivisione, ma ha anche portato alla luce una controversia legata a suo padre, che ha poi condotto alla sua decisione di lasciare il reality show. Questo evento ha scatenato una grande discussione sui social media, mettendo ancora più in evidenza la figura di Heidi nel panorama televisivo italiano. Heidi Baci ha mostrato una grande passione e un'energia contagiosa durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello. La sua clip di presentazione per il reality show ha evidenziato la sua volontà di tuffarsi in questa esperienza unica, con la speranza di imparare, crescere e condividere momenti significativi con gli altri concorrenti e il pubblico a casa. Ha espresso l'entusiasmo per le sfide che avrebbe affrontato, mostrando una positività che ha reso la sua partecipazione al Grande Fratello 2023 memorabile e influente. Il percorso di Heidi Baci nel mondo dello spettacolo italiano, sebbene breve, ha lasciato un segno. La sua determinazione, il suo entusiasmo e la sua genuinità sono stati una boccata d'aria fresca, rendendo la sua storia nel Grande Fratello 2023 un capitolo interessante e ispirante della sua giovane vita.